metterlo qua, qui, e questo è l'altro qua sopra così per allungare questo muscolo qua così brava, questo così poi abbassiamoci un po', stai ferma un po' più avanti, puoi fare così eh, cerca di prenderla con una mano sì, brava, adesso con tutto due brava, ora fai nel lato e l'altra gamba, così dai, così, esercizio di stiramento eh, ora fai così quindi, questa la metti qua questa la prendi, metti qua sopra sopra, così questo metterla giù, questo metterla qua così e questo metterla qua sopra così vedi se ci riesci, così, guarda vai sì eh ce lo fai? no, ancora sei giovane allora fai così portando avanti il petto e sparri indietro si si ora fai così ora fai così così tutti qua brava ora con l'altra così gira dai no così come faccio io, guarda vedi questo cos'è? va bene poi così poi così poi così non ti fa male un po'? eh certo tutto mi fa male anche perché sono stanco basta va bene per oggi va bene ciao 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 ciao